Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti, buon inizio settimana dalla redazione di FanoTV, come sempre siamo in diretta alle 7.30 per la lettura dei quotidiani, due giornali che prendiamo in esame e che tra poco vedremo sul nostro touchscreen con i titoli più importanti. Vediamo il Santo del Giorno, oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Tommaso Apostolo, il sole è sorto alle 5.30 e tramonterà alle 20.55, il tempo sarà un tempo buono, oggi stabile con temperature stazionarie un lieve aumento, il mare sarà inizialmente mosso ma il moto ondoso andrà a indebolirsi nel corso della giornata. Anche per domani, vedete, il tempo comunque sarà buono su tutta la costa e un po' su tutta la regione, a parte qualche nuvolosità e qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne. Allora, adesso i giornali, cominciamo dal resto del Carlino, la pagina di Pesaro, la fotografia in primo piano è per il boschetto a luci rosse che si trova in pieno centro a Pesaro, davanti al bar della stazione, dove giovani ragazze italiane contrattano con i clienti e poi si appartano e il degrado avanza sempre di più. Ma le nuove droghe in Pesaro primo piano, quali sono per i giovani? Sono lo sballo dei tredicenni e lo smartphone, il cellulare, il cannabis e il coca non attaccano più, le dipendenze patologiche sono quelle dei cellulari che aumentano tra i ragazzini che adesso chiedono anche aiuto, non riescono più a staccarsi dal cellulare. Nel 2016 c'è stato un aumento dell'8,9% di accessi di giovanissimi nei servizi del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'area vasta numero 1. I ragazzini evidenziano disturbi che li spingono a chiudersi in casa con un utilizzo smodato delle nuove tecnologie. Al boschetto c'è il sesso a pagamento, così si divendono le ragazze italiane, il parco, il parco dei caduti, luogo di incontri. Un tempo c'erano le ROM, c'è anche questo racconto che troverete nell'articolo, nella sala d'attesa degli autobus di Ami, che è chiusa da mesi, un utente al caldo, al freddo, a seconda del meteo, insomma c'è questo caso che viene segnalato, questo luogo che è diventato un luogo di spaccio, anche di rapine purtroppo, non è un luogo sicuro. C'è stata la festa del Porto, invece domenica, sempre a Pesaro, il parco dov'è, dice Don Marco, il parco rinnova la richiesta al sindaco Ricci, la giornata, l'uscita in mare, la deposizione di Corone, domani pubblicheremo l'elenco dei vincitori della lotteria, scrive il Carlino, ieri sera spettacolo pirotecnico. La pagina di Fano, anche se oggi ricordiamo ci sono gli inserti sportivi, dunque la Juve ha perso, a piedi da Cagli a Fano. Simone Giacomucci, ex arbitro, ha celebrato così la sconfitta in Champions. E sabato si è alzato il buon mattino, ha messo le scarpe da ginnastica, è partito a piedi, ha percorso 50 chilometri, non per gusto ma per una promessa, artefice della passeggiata a Cagli-Fano, appunto questo giovane arbitro di calcio, Simone Giacomucci, residente a Cagli. L'altra pagina del resto del Carlino invece su Aspes, la società pesarese Aspes piglia tutto, il fatturato vola, il 2016 si è chiuso con la cifra record di 22 milioni di euro, il presidente Pieri dice sono aumentati i comuni che ci hanno affidato i servizi e anche i rami d'azienda. Ecco, spiegato il motivo di questo aumento di fatturato. Il Corriere Adriatico, basta cantiera, singhiozzo, verrà abolita la fascia della pausa, corso 11 settembre, stretta sui tempi, ancora proteste per via San Francesco, mentre ottimi risultati per la notte dei saldi nel centro storico di Fano, un centro storico affollatissimo, l'unica attrazione erano appunto i saldi del commercio, clienti in arrivo anche dalla provincia. E poi sotto la testata tre brevi notizie, intanto il festival che si è chiuso a Pesaro, Luca Zingaretti dice in tutte le cose che faccio ci metto sempre la passione, a Senigallia il Caterraduno invece con Gabbani chiude con il botto, è una breve di sport dove il Fano Calcio, l'Alma Juventus, comincia una settimana molto importante. La pagina di Fano è tutta per i saldi, che spettacoli, grandi sconti, unica attrazione, il centro gremito di pubblico, soddisfatti i nuovi negozianti, anche quelli storici. 600 bambini, sempre da Fano, educati anche al rapporto con l'amico cane, nei centri estivi si lavora allo sviluppo delle relazioni con gli animali domestici. Mentre la pagina di Urbino, Indiana Jones, tra le terme che piacevano a Roma Antica, da oggi a Sant'Angelo Invado, riprendono gli scavi archeologici. Dalla Valle del Cesano, terre roveresche, l'esempio di Sebastianelli, fa scuola contro il degrado, il sindaco invitato ad un convegno latina per l'iter sulle case in abbandono da espropriare. Da Senigallia, invece, dopo il Caterraduno c'è il Summer Jamboree, sarà un Summer blindato, allerta dell'antiterrorismo, è nella lista nazionale degli eventi considerati a rischio in Italia e c'è un piano, chiaramente, di sicurezza, ma questo vale per il Summer, come abbiamo visto durante lo scorso inverno, vale anche per il Carnevale di Fano. Insomma, tutti eventi che richiamano gente in un specifico luogo. Federico II, siamo sulla pagina di Iese del Corriere, Federico II, senza segreti, sarà un'estate multimediale, il Museo Stupormundi, aperto ai turisti, è dal 15 settembre, spazio alle scolarische. Allora, ci fermiamo qui, la rassegna stampa è già finita, breve, perché comunque, come dicevo, ci sono gli inserti sportivi, quindi tutte le pagine dedicate allo sport e agli eventi estivi e quelli sportivi. Chiaramente, noi ci fermiamo, ci vediamo stasera, ci vedremo stasera alle 20.30 con l'intelligionale e vi ricordo, come sempre, il numero di telefono, il 338 4968 250 per le vostre segnalazioni. Grazie per aver seguito la rassegna stampa, buona giornata a tutti. Grazie.